Ciao, benvenuti su Goldie Unicorn Artarot. Ciao carissimi e carissimi, siamo arrivati al segno del capricorno, quindi andiamo a fare il nostro gioco per vedere che cosa vi accadrà. Ricordati di guardare anche il tuo ascendente. Mischiamole ancora un momento. Comunque si era girato il denaro, così tanto per dire che il capricorno interessa la vita pratica in modo particolare, da buon segno di terra. Allora, caro Saturnino, andiamo un po' a vedere che cosa ti succederà. Ricordati appunto di guardare sul mio canale anche per l'ascendente, per la tua luna, per la tua venere. Allora, andiamo un po' a vedere. Ricordatevi che non arrivano tutte le notifiche quando si mandano tanti video, quindi dovete andare proprio sul canale a vederle, le notifiche dei video. Oh, la prima carta, abbiamo l'amore per il capricorno. Vediamo. Allora, in realtà stava uscendo il denaro, ma comunque qui c'è tutto, amore, lavoro, vediamo. Allora, stai pensando all'amore. Vediamo un po'. E queste sono scivolose, eh. Andiamo a mischiarle un momento. Allora, sei innamorato o stai cercando l'amore? O per te l'amore è un regalo? Perché questa carta rappresenta anche un regalo d'amore. Allora, vediamo. Beh, io direi che è una vittoria d'amore, quindi, che sta arrivando per te. È questo così come prima carta, come prima energia. Soprattutto perché tu in questo momento ti puoi sentire solo, oppure ami la solitudine, perché il capricorno ama in se stessa la solitudine, ma deve sempre avere comunque delle emozioni da provare, no? Quindi sei comunque, vediamo, eh, che cosa dicono. Ecco, stai bene da solo, ma ti piace anche conversare, parlare, ti piace la riunione tra amici. Ecco, qui abbiamo già visto una vittoria in amore, ma vediamo ancora di aggiungerci delle carte. Beh, qui c'è proprio qualcuno, una persona che ti interessa, eh, capricorno. Quindi ti interessa, ti interessa la vita anche, diciamo, pratica, ma ti interessa anche la vita amorosa, nel senso che secondo me tu vuoi proprio in questo periodo, almeno, una persona solida a fianco a te. Ma mi viene da dirti che importanza ha che la persona sia solida. Tu sei già solido, no? Sei tu la solidità, no? Concentrati sulla tua solidità. Se le persone hanno delle fragilità intorno a te, sei tu comunque che sei la roccia, no? Forte. Allora, infatti vedo che pensi anche molto alla vita pratica, al lavoro, eh, pensi molto a qualcuno, ma in questo caso questo è il settore un po', eh, diciamo, anche amoroso, ma anche del lavoro. Vediamo, aspetta che te le metto insieme così capisco meglio. Allora. Allora, secondo me, tu vuoi, in questo momento della tua vita, una persona che stia a fianco a te, perché tu hai tante cose da fare, quindi vuoi che questa persona ci sia, che in un certo senso ti sia devota, perché questo è anche l'essere servizievoli nei tuoi confronti, a te piace servire, ma ti piace anche essere servito nel senso buono del termine, eh, quindi nel senso che ti piace magari preparare delle cose per la persona che stimi, tu hai bisogno di stimare molto la persona con cui stai. E quindi qui io vedo che vuoi unire un po' la vita pratica all'amore, nel senso che per te questa persona che ti può interessare deve, che a cui pensi, perché tu pensi a qualcuno, qualcuno o perché lo devi ancora incontrare, o perché ci stai già, o perché vuoi ritornare con qualcuno, ecco, però ci sono un po' di groviglie emotivi, ti devo dire la verità, è qui, perché tu vorresti che vada tutto liscio, ma effettivamente c'è anche un po' il tuo orgoglio che prevale alle volte, no? La tua voglia di serenità, sì, con questa persona che non ti crei problemi perché tu hai tante cose da fare, ecco, quindi ci sono un po' tutti e due, tutti questi elementi. Tu non vuoi assolutamente soffrire, però poi ti ritrovi che magari le richieste che ti vengono fatte, tu non riesci a soddisfarle, quindi un po' ti irriti, ecco, quindi alla fine tu poi vuoi che la persona sia una persona pratica e reale, tu non vuoi che questa persona si faccia delle esagerate illusioni su di te, tu non te le vuoi fare su questa persona. Tu vivi, almeno in questo momento della tua vita, ma com'è anche la caratteristica del tuo segno, un amore, sì, bello, che ti piace, che ti coinvolga moltissimo, ma che abbia anche i piedi per terra, per te questo è molto fondamentale. Se invece la persona la vedi troppo sulle nuvole così, a te incominciano a scattare un po' dei momenti di allontanamento, ecco, potrebbero anche poi scattare nella persona, perché magari tu vuoi che questa persona sia appunto in un certo modo, come tu te la immagini, quindi da un lato tu vuoi idealizzare, perché ti piace idealizzare la persona del tuo cuore, da un lato però poi vuoi che sia una persona appunto pratica in tutti i sensi della vita, ecco. Quindi mi viene da dire, caro Capricorno, che l'amore per te c'è, arriva, e mi viene da dirti di essere un po' più morbido sia con te stesso che con la persona che sta arrivando per te, perché alla fine è veramente una buona persona, quindi di guardare non tanto gli aspetti, diciamo, pratici, ma di guardare proprio la sua parte più profonda, perché questa persona che è per te, adesso vediamo se arriva o no, è proprio una persona che ha veramente una grande anima, questo ti stanno dicendo, queste carte, allora vediamo, tu hai bisogno anche di ridere, certo hai bisogno di leggerezza, perché ti dai talmente tanto da fare nella vita che poi hai bisogno di compagnia, di leggerezza, di dispensieratezza, ma secondo me questa è una persona che ha le sue dispensieratezze, però è molto diversa da te, ma a te il contrasto piace, perché a te un po' di contrasto ti dà un po' di brivido, diciamo, quindi io vedo che proprio per te la persona che tu vorresti che arrivassi a te, c'è, arriva adesso, assolutamente arriva, perché volete fare anche qualcosa insieme, a te piace anche molto viaggiare, quindi io vedo che farete delle cose che vi divertiranno insieme, poi naturalmente non mancherà la tua vita pratica, ma quello diciamo c'è sempre e comunque, per te la vita pratica, il lavoro, le soddisfazioni sono sempre molto importanti e naturalmente anche la persona fisica. Io vedo che molti capricorni, non tutti, stanno aspettando una persona del passato che non vedono arrivare, ora qui secondo me potrebbe essere davvero un ritorno, ma potrebbe essere anche un incontro nuovo, tu hai bisogno appunto capricorno di idealizzare, io vedo che tu idealizzi un tipo di persona, che ce l'hai dentro di te questa persona, che vuoi gioire con questa persona, quindi aspetta tranquillamente, fai le tue cose, che hai tante cose da fare sempre, quindi vedrai che questa persona arriva, poi qui abbiamo secondo me il quattro di denari qui rappresentato è anche il lavoro, infatti viene la carta del denaro sopra, avrai grandi soddisfazioni in questo periodo, raccoglierai veramente o promozioni o arriva al lavoro che veramente ti aspetti, un cambiamento, riesci a realizzare qualcosa che hai dentro di te da tanto tempo. Io vedo che fai molti spostamenti, prossimamente per te ci sono spostamenti, devi incontrare proprio delle persone di lavoro, mi viene da dire che di non mettere in ombra la persona dell'amore, non metterla in ombra, perché alle volte tu ti concentri così tanto sulla tua vita, diciamo lavorativa di tutti i giorni, alle volte anche sul divertimento, che metti questa persona in ombra e poi nascono dei conflitti, comunque qui qualcuno per te arriva. Io adesso voglio metterci però anche qui una carta di fisica quantistica perché tu saprai se questa è una persona che ritorna oppure è un nuovo incontro, questo lo sai tu, però qui ti vogliono dire che hai delle grandi possibilità di vivere rilassato con questa persona. Secondo me tu hai bisogno in questo periodo della tua vita, nel periodo, e secondo me succederà questo, hai bisogno proprio di avere un giardino fiorito nella tua vita, hai bisogno di sapere che tu lavori tanto, poi arrivi a casa e c'è una persona tranquilla che ti aspetta. Tu hai bisogno che l'altra persona sia tranquilla perché tu sei già molto agitato, quindi hai bisogno proprio della rilassatezza di questa persona e secondo me è questo che succederà. Guarda, qui questo gioco si conclude proprio con l'incontro vero di questa persona che e secondo me molti, come ho già detto, aspettano qualcuno di specifico. Non per tutti la persona che arriverà sarà un ritorno, non per tutti i capricorni, devo dire la verità, non per tutti i capricorni, senz'altro però ci sarà per i single, senz'altro ci sarà un incontro nuovo e per chi aspetta un ritorno, secondo me solo una parte di voi avrà un ritorno, chi riuscirà veramente a dare spazio all'altra persona. Questo stanno dicendo, il messaggio che vi vogliono dare, sono anche messaggi evolutivi, è anche un po' questo. Quindi mi viene da dire di metterti, metterti, chi sta aspettando un ritorno, di mettersi un momento in secondo piano e di identificarsi un momento nell'altra persona. Questo è il messaggio che ti stanno dando. Anche per voi voglio prendere comunque un arcangelo per vedere che cosa ti vogliono dire, proprio cosa dovresti fare in questo momento, è avere proprio una comprensione spirituale che tu quando vuoi riesci a raggiungere delle comprensioni spirituali altissime, delle vette altissime, cioè perché in fondo poi la compassione, in fondo, in fondo anche se ti mascheri un po' da persona dura, poi ce l'hai, è anche l'intelligenza per comprendere veramente l'altro. Quindi di mettere un po', allora se veramente vuoi un ritorno, metti per un certo periodo, metti il focus anche sulle esigenze dell'altra persona, perché questa persona probabilmente si è allontanata da te o comunque anche per chi non aspetta un ritorno, ma nell'ultima relazione hai messo sempre il focus sulle tue esigenze. Invece se tu veramente vuoi un ritorno, metti il focus, questo è il messaggio che ti danno sull'esigenza dell'altro. Raziel ti sta comunicando attraverso, secondo me, le tue comprensioni, attraverso i sogni, attraverso delle visioni, delle informazioni, dei simboli esoterici per aiutarti a comprendere delle grandi verità. Quindi, secondo me, la verità spirituale è anche insita in tutta la tua vita, in tutto quello che fai, perché poi, se tu vuoi, riesci a raggiungere davvero delle grandi vette. Quindi, carissimi Capricorno, io vi auguro davvero il meglio per tutto e a risentirci a presto. Ciao a tutti, grazie dell'ascolto.